Ciao ragazzi, tra poco inizierà il Giro d'Italia, infatti mi sono messo anche la maglia rosa Allora, come inizierà questo Giro d'Italia? Ricordiamo la prima tappa in Israele, il 4 Per festeggiare il ritorno del Giro d'Italia, l'edizione 101, come sapete sono un grande appassionato Mi piace tantissimo il ciclismo, ho anche l'album delle figurine di quest'anno del Giro Cosa faccio con questo video? Praticamente l'anno scorso sono andato al museo di Novi Ligure, il trofeo dei campionissimi Il museo dei campionissimi, lì è il museo del ciclismo veramente eccezionale, ha tutto Trovi vecchie foto, vecchie maglie, biciclette vecchie e nuove, davvero un museo eccezionale, bellissimo Vale la pena se avete l'occasione andateci perché è qualcosa di eccezionale Io ho raccolto le immagini che ho scattato allora, vi dico subito che sono molto sfocate Perché già faccio fatica a fare le foto belle col mio cellulare di adesso Allora ho proprio un cellulare che le foto non le riuscivo a fare Le ho prese tutte, le ho raccolte, le ho praticamente messe sotto musica E niente, quindi adesso parte questo video E spero che vi piaccia, godetevelo Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.